Durante una festa in Val Biandino siamo riusciti a soccorrere una persona colpita da infarto grazie ad un defibrillatore recuperato in tempi record da un trialista, racconta Alessandro Spada, a capo della stazione Valsassina e Val Varrone del Soccorso Alpino, per spiegare come nasce l'accordo sottoscritto con il Motoclub Valsassina, un documento unico in Italia che sancisce una collaborazione, di fatto già in atto, tra soccorritori e trialisti. È un accordo importantissimo perché come soccorso alpino, secondo me, dobbiamo avere il dovere di fare di tutto per poter risolvere in modo più veloce e più celermente possibile qualsiasi tipo di intervento. La velocità che hanno i trialisti e anche la conoscenza del territorio fanno tanta cosa, però tutto non si ferma qua con la firma del protocollo perché l'intenzione è quella che i motociclisti formano con addestramento i nostri volontari o l'utilizzo del trial perché anche noi abbiamo delle motociclette per raggiungere velocemente l'infortunato. E noi facciamo dei corsi sanitari tipo la certificazione DAE ai ragazzi della federazione, dei motociclisti, in modo che se dovessero arrivare per primi sul ferito, possono praticare le manovre salvavita quali sono il massaggio cardiaco, estracorporeo o comunque utilizzare un DAE che fra l'altro in Valsassina sono presenti in tantissimi rifugi. Questa è veramente una risorsa che non dobbiamo non prendere in considerazione. Già diversi giovani del motoclub Valsassina, che conta 165 iscritti, che hanno aderito all'iniziativa, tra i quali anche il trialista campione del mondo Matteo Grattarola. Noi magari sappiamo andare in moto, però loro ci faranno delle lezioni appunto sul primo soccorso per intervenire oppure la ricerca delle persone, magari qualcuno che si perde perché è andato per funghi o la ricerca che deve diventare più vasta sul territorio e allora noi interveniamo in quelli frangenti lì. Un accordo che rende orgogliosi anche i sindaci del territorio e i presidenti regionali. Noi abbiamo 355 motoclubi, abbiamo 22.000 soci. In questo grande bacino trova anche spazio questo protocollo d'intesa per far sì che i motociclisti possano riversare il loro valore aggiunto sul tessuto sociale. La prima regione in tutta Italia, quindi posso onestamente ribadire un'altra volta di essere orgoglioso. È un collubio che di fatto già esisteva, andava soltanto formalizzato. Quindi è un passo assolutamente necessario e di cui andiamo sicuramente orgogliosi.